ciao benvenuti in un nuovo episodio di se vabbè il format in cui andiamo ad analizzare i film e serie tv nel mondo fisico in cui abitiamo nel mondo reale si si hanno senso nel mondo fisico in cui abitiamo possono succedere quelle cose probabilmente no ma a dircelo sarà come al solito il nostro ingegnere di fiducia cioè davide grazie salve a tutti tra l'altro se non seguite davide sui social in descrizione tra i tutti i link per seguirlo su instagram si si ma non è la gag parlo dei razzi su allifans non ci guadagno una lira però è figo andate a dare dei soldi su allifans tra i c***o e i piedi che seguite come si chiama? sto razzo bellissimo col trattino in mezzo perché si questo è si vabbè oggi a mio santucci di cosa parliamo oggi parliamo di una roba impossibile per definizione cioè che sta nel podio delle cose impossibili dopo fast and furious c'è missione impossibile mission impossible che io senti poter dire che è il re del se vabbè più di fast and furious se non metto un cruise l'ha inventato lui se vabbè non lo so è voi che ne pensate più se vabbè fast and furious o mission impossible schiedere nei commenti sai perché secondo me è più fast and furious perché il mission impossible lui gli istante li fa veramente negli ultimi e quindi sono devono essere reali no negli ultimi non lo so partiamo subito con la prima scena che è tratta mission impossible 1 che è proprio nonostante che sicuramente non ha fatto lui questa scena davide già te lo dico lo divideremo in due nella prima parte c'è il buon tommaso crociera che è su questo treno a ok e esce fuori mette la testolina fuori su questo treno che va a 8 mila velocità che piotta c'è il cattivone che è tutto bardato legato con le cose lui invece a mani nude esce fuori fa una verticale sul treno in corsa è tutto a posto e raggiunge il cattivone poi si scivola sul treno poi fanno tutte cose con un elicottero che nel frattempo li segue arriva un tunnel si infilano nel tunnel tutte cose all'improvviso che succede tom cruise decide di saltare dal treno all'elicottero metterci con il chewing gum una bomba che però lui non è che mette la bomba per distruggere solo l'elicottero non è un mezzo di trasporto esatto la bomba per lui è un mezzo di trasporto perché come a roma con gli autobus quando esplode lo porta dove deve andare tu questa scena la guardi in diversi punti ma in particolare in questi due dici se vabbè è un continuo dall'inizio alla fine non si è vabbè ma con la mano così fino a che non dura 8 minuti si dovete dirmi voi voti morti giusto ma quanti uno solo da ne uno che tenga conto dei due pesi delle due parti allora diciamo che nella prima parte voglio dare un voto morto e più basso della seconda perché nella seconda e così c'è anche l'effetto fuoco esplosione dentro un tunnel quindi nella prima parte darei una roba tipo 7 nella seconda è un 9 abbondante quindi ho quindi facciamo che 8 però siccome e il 9 era più 9 e mezzo facciamo che la media è 8 e mezzo il mio voto morto è sempre quello di mezzo dei meno è una cosa incredibile io vado diretto su 99 secco perché secondo me la prima parte è talmente 9 che alla seconda manco ci sarebbe arrivato ah ok quindi dico 9 beh sono voti rispettabili effettivamente la scena parte benino perché quando lui mette la testolina fuori dal treno fanno una cosa simpatica per farti capire che il treno piotta e che l'aria risucchia gli vola via la giacca senza nemmeno volerlo quindi quella l'ho apprezzata è una cosa che ci ha veramente senso poi il resto basta le cose con senso finiscono lì dovremmo capire innanzitutto nel momento in cui fa quella capriola lì a che forza è sottoposto quindi quella la possiamo calcolare facciamo delle ipotesi vediamo a quanto cioè quanto dovrebbe aver esistito toncruise considerando che la velocità del treno abbiamo detto essere circa 250 km orari per calcolare questa forza ipotizziamo che il momento peggiore di questa capriola di toncruise è quando lui è verticale quindi piedi in aria e testa sul treno in quel momento lì la resistenza aerodinamica si può calcolare utilizzando dei valori tipici per la superficie corporea che ipotizziamo essere 0 85 metri quadri la densità dell'aria che è quella standard a quel livello quindi 1,2 25 kg al metro cubo e il coefficiente resistenza che ipotizziamo essere 1 mettendo tutto quanto insieme otteniamo che la forza nel momento in cui toncruise fa la verticale è 2500 newton che equivalgono a circa 250 kg di patate quello che te pare cipolle che ti arrivano tutti quanti addosso ok io pensavo in pochissimo tempo perché è una frazione di secondo quindi non è proprio una cosa che sai resisti facilmente pensavo di più io stavo per dire otto elefanti no 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 sai chi è l'unico che riesce a prendere 250 kg di patate in brevissimo tempo? eh lo so il grande rocco perché sempre ma parli di patatine da mangiare amica chips no poi allora la cosa è assurda già nel momento in cui lui fa la capriola poi dobbiamo metterci come dicevamo prima il momento della presa a singola mano ora toncruise può essere palestrato quanto volete ma è relativamente gracilino specialmente nel primo film quindi considerando che il record di grip a singola mano è 100 115 kg insomma dipende da come viene fatto però la media è quella è proprio tanto per per uno come toncruise quindi sicuramente non avrebbe tenuto la presa cioè già lì doveva volare via il problema vero è la parte dell'esplosione quindi stiamo dando per scontato che va bene che un elicottero entra in un tour ma non farti troppe domande ci interessa quello che fa toncruise cioè si gira da una schiacciata al cupolino dell'elicottero attacca la bomba esplode lui viene proiettato in avanti già in quel momento lì per me ci stanno grossi problemi diciamo che per puro culo ci riesce cioè la dinamica della cosa è che lui viene buttato sul treno a posto quindi mettiamo caso che non arrivino i pezzi toncruise che c'è una faccia una singola rata di toncruise che arriva sul treno però arriva con sicuramente la schiena bruciata me che è rincoglionito perché le orecchie i timpani l'ha salutati quindi sangue dalle orecchie come minimo probabilmente anche sangue dal naso anche dal culo la cosa più problematica è la botta di pressione che ricevono i polmoni ipotizziamo che una granata normale a distanza di circa due metri genere un'onda di pressione che è quella che dà problemi agli organi e spesso e volentieri porta la morte di circa 900 chilopascalle che un'unità di misura della pressione già sopra i 700 c'hai danni piuttosto gravi ai polmoni e agli organi interni vicino ai 1000 è morte quasi certa quindi considerando che lui presente attacca la bomba e sta lì e la usa come propulsione quindi deve stare molto vicino al fronte d'onda direi che la morte è più o meno certa o comunque non arriva sul treno così bene come si vede nel film fin dopo sarebbe stato mission in posero alla terapia intensiva edizione terapia intensiva a fianco dei rock col jazz e tutti gli altri delle altre scorse puntate per cui siamo stati molto buoni quei voti abbastanza io gli darei un 9 solo totale perché mi tengo quell'uno se tutto va incredibilmente bene lui sopravvive non muore ma non è felice della sopravvivenza diciamo così non è che se la prende sgargiullo come voleva si dimostrare non è che siccome li fa adesso allora va bene ma perché quelli non li faceva c'è adesso invece gli ultimi sì ma vediamo vediamo avanti a perché adesso giusto breve interruzione abbiamo visto the batman al cinema ci ha mandato talmente tanto in fissa che dopo domani domenica 13 alle 19 faremo un episodio di role and movie tutto dedicato all'universo di batman in particolare quello di nolan così non facciamo spoiler per chi non ha visto il film quindi se volete vederci giocare di ruolo in una gotham oscura che ci porterà dentro l'arcam asylum ci vediamo dopo domani alle 19 sul canale twitch di slim dogs dai e quindi passiamo alla seconda scena di mission impossible in particolare siamo in mission impossible 4 protocollo fantasma lo ricordate sì e io vorrei portare all'attenzione la scena in cui germy renner si deve buttare da quel tunnel chiamiamo da quel tunnel da reazione tunnel da reazione e alla fine si riesce a salvare perché in fondo vola e resta sollevato dal ventolone metallico perché lui sotto una tuta metallica e sotto c'è questa macchinetta che loro radiocomandata che arriva con un magnete che quindi grazie all'effetto magnetico non lo fa spiaccicare sulla ventola un'enorme geomag come se fossero meglio ma che usato al contrario tu guardandola che fai se vabbè però ad esempio io lì mi sono chiesto ma questa tutona magnetica esiste è una totale va bene o è una roba che hanno un po preso dalla realtà io dico che esiste secondo me è fattibile quindi dico che il voto è 5 se esiste la tuta magnetica esiste il magnete magnetismo c'è via esiste però poi si può fare così per me si cina oppure per me si può fare infatti io avrei dato un sei e mezzo basso e mi sarei tenuto e quindi sei e mezzo ok sei e cinque allora in teoria diciamo a livello di leggi fisiche si può fare è una tuta ferromagnetica sotto c'è un magnete può funzionare il problema è il come alcuni scienziati della nasa hanno replicato questa specie di in realtà l'hanno fatto anche relativamente prima rispetto al film però hanno fatto una cosa simile con un topino immerso in un campo magnetico e riusciva a fluttuare problema è che il magnete intorno al topino era molto grande rispetto al topino e quello che vediamo nel film è esattamente l'opposto jeremy renner è molto grande rispetto al magnete piccolino che utilizzano per tenerlo sollevato il magnete sotto dovrebbe essere invece che grande così più compatibile con una macchina per fare le risonanze magnetiche una cosa grossa quanto una stanza enorme oppure un po più piccola ma un super magnete quindi che sia perché ha problemi di riscaldamento e deve essere affreddato con l'azoto liquido con l'elio liquido insomma una roba molto complicata non telecomandata non grande come un francobollo ok sento che allora diciamo che la fattibilità teorica ci sta la fattibilità pratica di quello che vediamo è 0 e il voto morte è 10 per non sarebbe stata abbasta a meno che jerry merender non pesa 5 kg con tutta la tuta addosso avrebbe se sarebbe impiantato dentro la ventola quindi i gadget in mission impossible sono tutte stronzate dipende dipende ce ne stanno alcuni interessanti per esempio ci sono almeno un paio che secondo me saranno fattibili in un prossimo futuro uno su tutti i guanti da gecko diciamo i quanti adesivi quelli che usavano per il bush califa esatto per salire sul bush califa che già lì funzionavano benissimo che io ricordi nel film non c'ha senso nel modo in cui lo vediamo c'è un guanto così piccolo con quel movimento di polso ancora non c'è nulla di simile nella realtà stanno studiando una specie di pad per incollarsi tra virgolette su qualsiasi tipo di struttura irregolare regolare che abbia delle delle punte eccetera che si leghi al materiale senza utilizzare della colla o del magnetismo serve soprattutto nello spazio praticamente fa quello che fanno i jackie cioè arriva a livello molecolare e crea dei legami a livello molecolare quindi l'idea è simile solo che la scala con cui viene costruito per adesso è relativamente piccola non è proprio compatibile a quello che fa Tom Cruise nel film però sono abbastanza fiducioso che in un futuro prossimo è una cosa che si potrà fare sicuramente nello spazio l'applicazione è molto più semplice che sulla terra quindi non sono un enorme cacatone quello no i guanti avrebbero un senso logico un'altra cosa che è estremamente figa per tutti quanti anche per dei nerd come me sono le lenti a contatto intelligenti le smart lenses o contactless diciamo dovrebbero fare quello che promettevano di fare i google glass però lo fanno su una lenta a contatto posta sull'occhio e noi lo vediamo in un film e lo indossa lei lo indossa no lo indossa Sawyer di Lost e lo usa per scansionare le persone e trovare un profilo in particolare il versato il loro target quindi sono già in studio ci sono almeno due aziende in novega e mojo che stanno costruendo di prototipi che sono abbastanza avanti con lo sviluppo come fai praticamente l'alimentazione è tutto miniaturizzata la miniaturizzazione è arrivata fino a quel livello lì praticamente tu ti metti questa lenta a contatto che è costruita con due strada due più strati al centro hai un granello di sabbia praticamente grosso quanto un granello di sabbia ed è un piccolo led che proietta direttamente sull'iride in tutto intorno ci sono delle placchette che non occupano la vista e che fanno da batteria almeno questo per il prototipo di mojo quello di novega ancora un po più diciamo segreto tra virgolette però funzioneranno tutti così quindi secondo me qualche anno ci vorrà ancora più che altro per tutta la sperimentazione che dovranno fare e sistemare anche sicuramente infiniti bug o comunque scomodità che troveranno su una cosa del genere quindi finito questo excursus sui gadget io ho un'ultima scena di cui vorrei parlare questa è la scena più sgravona e cattivone c'è questo momento in cui loro si la classica scena in cui si vanno uno incontro all'altro in moto e fanno a chi se scansa per primo spoiler non se scansa nessuno impennano il mente per pura coattanza de ostia se vanno incontro si scontrano loro saltano le moto esplodono entrambe loro fanno una direzione che io credo non abbia molto senso abbracciati atterrano tipo al di sotto di una rupe sulla sabbia poi continua a menarsi tu la vedi la cosa che pensi dentro se vabbè stai a di zio dai ovviamente ridicolo quindi voto morte per me qui voto morte a parte che loro si scontrano la velocità atroce cioè sarebbero diventati so quello è il modo giusto per fare la fusione di dragon ball nella vita quella con le moto l'unico essere fruscio qui per me è tipo otto io do di più di più di nove e mezzo nove e mezzo nove e mezzo allora sono tutte e due voti altini io tenderei a da un po anche leggermente di più perché non ha alcun c***o di senso questa scena io comincerei con l'analizzare quanto è forte l'impatto matematicamente iniziamo con l'ipotizzare la velocità a cui impattano diciamo che ognuno di essi va a circa 80 all'ora facciamo così e quindi in teoria uno rispetto all'altro va a 160 chilometri orari se prendiamo la velocità relativa possiamo utilizzare quindi la formula del teorema dell'impulso che è derivato dalla seconda legge della dinamica per capire qual è la forza a cui è soggetto il loro petto io considero che loro si tocchino soprattutto col petto ipotizzando che lo scontro non duri più di un centesimo di secondo e che cruis e il cattivone pesano entrambi i 70 kg ipotizziamo pure questo abbiamo che l'impatto genera su ognuno di loro più di 155 mila newton quindi praticamente se prima erano 250 kg di patate adesso non so che patate adesso sono 15 tonnellate sul petto quindi due t-rex e mezzo due t-rex due t-rex dipende quanto ha mangiato il t-rex in moto poi soprattutto due t-rex in moto cicli ma legati fra di loro sì sì con lo scotch da pacchi diciamo che c'hai almeno il 50 per cento di possibilità di morirci se uno guarda a quanto regge la gabbia doracica stai più o meno sopra al 50 per cento di morte va bene la percentuale su cui io ci permette l'impossible e niente a voglia nel senso sì vero però poi c'è da considerare che questa cosa avviene in aria poi 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 atterrano quindi se ci metti anche l'atterraggio dopo un impatto del genere che ti lascia forse mezzo morto forse mezzo vivo dopo l'impatto per me voto morte 10 secco è improbabile che che sopravvivi bene è assolutamente impossibile che continuano a combattere come fanno vedere nel film quindi entrambi morti sì lo scontro è simmetrico quello che riceve uno riceve l'altro se fosse stato don cruy scontro bud spencer allora avrei detto una accusa di più dell'altro però d'altronde ragazzi si chiama incidente stradale si chiama frontale quindi di solito non lo calcoli de petto perché non fa il botto così però che ne sai magari sbattivano il collo cadendo non è e quindi siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata io confermo ogni volta che vengono in questo in questo format dura sempre pochissimo è il più bello ti voglio sapere di più voi vedete più gente morta no voglio capire invitati più spesso va bene se anche voi volete saperne di più e volete sottoporci delle scene volete sottoporre a davide delle scene lasciatele qui sotto nei commenti vi ricordo anche che oggi come tutti venerdì saremo in live su twitch alle 18 con la puntata del nostro podcast pizza e cinema a tema attualità news rumors su tutto ciò che riguarda film serie tv e il mondo di intrattenimento in generale quindi descrizione trovate il link per seguirci su twitch ci vediamo alle 18 e noi salutiamo salutiamo salutiamoci davide e no c'è un finale dai sto pensando tanto vero giovanni monterà quello che prima che altro devo dire basta